Oggi in Camera di Commercio a Pescara si parla di turismo, di agricoltura e di export. Si punta anche sull'agricoltura per aumentare l'export della nostra regione, Lignini? Oggi c'è un importante focus sul binomio agricoltura-turismo, su come diversificare le attività agricole e quindi integrando il reddito attraverso l'apertura al turismo e dall'altro lato come destagionalizzare sempre di più le attività turistiche che soprattutto in questa regione sono concentrate in particolar modo nella stagione estiva balneare e in quella invernale. D'altronde parliamo sempre e diciamo sempre che la nostra regione ha questa peculiarità del mare e della montagna così vicini ma non dimentichiamoci che tra il mare e la montagna c'è una bellissima collina che può assolutamente e deve essere valorizzata. Si può dire che l'Abruzzo deve essere ancora più valorizzato per quanto concerne le sue bellezze? Molti dicono un Abruzzo che non si conosce fino in fondo non solo in Italia ma anche fuori dai confini nazionali e così secondo lei? Proprio questo ci dicono i dati. Ad esempio c'è una presenza di stranieri inferiore alla media italiana ma che intervistati danno un giudizio molto positivo della loro esperienza di presenza nell'Abruzzo. Chiaramente il trinomio, paesaggio, territorio con l'agricoltura e con il turismo sono fondamentali quindi bisogna lavorare in una maniera coordinata che valorizzi tutti gli aspetti.